Ciao, sono Chris e sono nato in una famiglia povera. A scuola avevo soltanto un'amica, si chiama Mary, ed era una nerd. Le altre ragazze non mi notavano nemmeno. Finché a una festa sono finito al centro dell'attenzione. La ragazza più bella della scuola ha riso a tutte le mie battute, poi mi ha preso per mano e mi ha portato in una stanza. Ho capito immediatamente quello che stava per succedere. Nell'oscurità ho abbracciato Monica e mi sono chinato per baciarla. Tuttavia la luce si è accesa all'improvviso e ho visto che stavo per baciare uno di quei manichini sui quali solitamente le ragazze appendono i vestiti. Monica aveva pianificato tutto. Lei e altri studenti mi stavano filmando con i loro telefoni e ridevano. Qualcuno tra la folla ha urlato. Finalmente lo sfigato ha trovato una ragazza! Erano tutti piegati dalle risate. Così sono corso a casa. Speravo che si sarebbero dimenticati presto della mia umiliazione. Invece hanno continuato a prendermi in giro. Mi sono lamentato con Mary. Non ne posso davvero più! Oggi chiederò ai miei genitori di trasferirmi in un'altra scuola. Mary era molto turbata e ha cercato di convincermi a restare. Quella sera ho deciso di parlare comunque con i miei genitori, che mi hanno promesso di trovare una scuola migliore. Il giorno dopo sono tornato a scuola con aria indifferente. Sapevo che l'unica cosa da fare era resistere ancora un po' alle provocazioni. Presto sarebbe finito tutto. Pensavo che mi avrebbero preso in giro. Invece è successo qualcosa di inaspettato. Alcune ragazze del liceo mi hanno circondato. Si trattava di Monica e due sue amiche, Stacy e Jess. Hanno discusso tra di loro e poi mi hanno proposto di vederci dopo scuola. Naturalmente ho pensato volessero farmi un altro scherzo. Così me ne sono andato. Anche se liberarmi di loro si è rivelato più difficile del previsto. Prima della lezione di educazione fisica ho aperto il mio armadietto e dentro ho trovato il reggiseno di un bikini. Monica mi è corsa subito incontro e ha detto ad alta voce, in modo che tutti potessero sentire. Ah, eccolo! Grazie Chris, lo stavo cercando ovunque. Poi mi ha dato un bacio sulla guancia e se ne è andata. Intanto io sono diventato tutto rosso, mentre i miei compagni mi guardavano incuriositi. Ma le assurdità non sono finite. Prima di una verifica importante Stacy mi è venuta incontro, mi ha dato dei fogli e mi ha sussurrato all'orecchio. Puoi sdebitarti uscendo con me. Mentre facevo la verifica ho realizzato che mi aveva passato le soluzioni. Siccome non riuscivo a farla da solo ho copiato tutto dal foglio di Stacy. Anche se mi è sembrato uno scherzo banale e ho deciso di provare. Forse non mi crederete, ma ho preso un voto eccellente! La ragazza del liceo non mi aveva ingannato e per qualche strana ragione mi aveva dato le risposte corrette. Anche Jess ha deciso di imitare le sue amiche. Mi ha fermato mentre andavo a casa e con un sorriso mi ha dato alcuni biglietti. Erano i biglietti per lo spettacolo del mio comico preferito! Prendili se vuoi. E li hanno dati gratis. Jess mi ha guardato. Mi è sembrato che volesse essere invitata. Invece l'ho ringraziata e ho chiamato Mary. Quella sera siamo andati insieme allo spettacolo. Non ridevo così tanto da tempo! Di ritorno io e Mary abbiamo parlato delle battute più divertenti senza smettere di ridere. Quando siamo arrivati vicino a casa sua ho deciso di cambiare argomento e le ho raccontato le cose strane che mi erano successe quel giorno. Pensi che abbiano in mente un piano per farmi sembrare di nuovo uno sfigato? No Chris! Sei simpatico, divertente, interessante e carino. Chiunque sarebbe felice di uscire con te. Dopo averlo detto Mary è arrossita. Mi ha salutato ed è corsa in casa. Le sue parole mi hanno fatto riconsiderare i gesti premurosi delle ragazze. E se veramente erano tutte interessate a me? Dopotutto si dice che alle ragazze piacciono i tipi timidi. Questi pensieri mi hanno risollevato il morale. Arrivato a casa ho chiesto ai miei genitori di non cercare altre scuole perché in fin dei conti la mia non era così male. Ma anche i miei genitori avevano delle buone notizie per me. Riesci a crederci? Tuo papà ha comprato un biglietto della lotteria e ha vinto! Ora abbiamo i soldi per comprare una macchina. Non riuscivo a crederci. Finalmente la mia famiglia aveva avuto un po' di fortuna. Miei genitori mi hanno mostrato una busta piena di banconote. Non avevo mai visto tanti soldi tutti insieme. Ecco perché ho pensato di prenderne una parte. Pensavo che i miei genitori non se ne sarebbero accorti. Quando si sono addormentati ho recuperato la busta dal nascondiglio e ho preso qualche banconota. Avevo deciso di usare i soldi per uscire con Monica, la ragazza più bella di tutte. Il giorno seguente, dopo scuola, ho comprato dei vestiti alla moda. Poi la sera ho portato Monica in un ristorante costoso e le ho regalato 101 rose. Era così bella che tutti gli altri ragazzi non le toglievano gli occhi di dosso. Tuttavia mi sono reso conto che era il suo unico pregio. Monica parlava continuamente di vestiti, serie tv, attori e altro. Mi sono stancato di lei dopo soli dieci minuti. Quella che doveva essere una delle serate migliori della mia vita si era trasformata in una vera e propria tortura. Ho tirato un sospiro di sollievo non appena ho riaccompagnato Monica a casa. E poi ho deciso di chiedere a Stacy di uscire con me, usando sempre i soldi vinti dai miei genitori. Ho preso delle altre banconote dalla busta e il giorno dopo ho comprato un regalo per Stacy. Un pupazzo di Hello Kitty enorme. Dal momento che erano a sua fissazione e quando era entusiasta e quando ha scoperto dove saremmo andati per il nostro appuntamento si è dimostrata ancora più felice. Per sorprendere Stacy ho prenotato un volo con la mongolfiera. Abbiamo guardato le case minuscole sotto di noi, abbiamo bevuto dei drink e chiacchierato. Ho realizzato che era una ragazza intelligente e parlava di libri, leggi fisiche e di teatro. Ma era tutto troppo noioso. Mi sentivo un idiota in sua compagnia. Quindi ho finto di avere le vertigini e ho chiesto al ragazzo che stava pilotando la mongolfiera di riportarci a terra. Sì, nemmeno il secondo appuntamento era andato come me l'ero immaginato. Ormai l'ultimo era la mia unica speranza. Quella sera ho preso altri soldi dalla busta e il giorno dopo ho regalato a Jess un biglietto costosissimo per il concerto di Billie Eilish. I nostri posti erano proprio accanto al palco ed era incluso un pass per il backstage. Io e Jess abbiamo trascorso l'intero appuntamento a Disneyland. Mi sono divertito un mondo con lei, se non fosse per due cose. Non era bella come le sue amiche e si vestiva in modo terribile. I passanti si giravano a guardarla, da tanto era stravagante il suo aspetto. Sono tornato a casa con un mix di sensazioni. Da una parte non riuscivo a farmi piacere nessuna delle ragazze, ma dall'altra ero felice. Dopotutto ero l'unico a scuola che veniva considerato da ben tre studentesse delle superiori. I miei compagni erano chiaramente invidiosi. Per mantenere vivo l'interesse delle ragazze, il giorno dopo ho flirtato con loro. Però sono stato molto attento a parlare con tutte e tre singolarmente, senza farmi vedere dalle altre. Non volevo che mi scoprissero. Mary non era d'accordo. Dopo scuola ha schioccato le dita davanti ai miei occhi. Ehi, svegliati! Lo stanno facendo solo per i tuoi soldi! No, non è vero! Mi hanno rivolto la parola prima della vincita di papà. E poi l'hai detto anche tu che chiunque sarebbe felice di uscire con me. Oppure non dicevi sul serio? No, non stavo mentendo. Ma te ne pentirai. Mary se ne è andata arrabbiata. A casa ero pronto a ricevere un'altra strigliata. Non appena ho attraversato la soglia, mia madre mi ha fulminato e mi ha mostrato la busta che si era svuotata. Desideravo così tanto essere apprezzato dalle ragazze che avevo completamente perso il controllo, spendendo un sacco di soldi. Mi dispiace. Li ho usati per qualche appuntamento, un ristorante, una mongolfiera e poi... Basta così, Christopher! Non avevi alcun diritto di toccare i nostri soldi senza chiedere il permesso. Mamma mi ha rimproverato a lungo e poi ha deciso di punirmi. A partire da settimana prossima studierai in una scuola di soli maschi, così non potrai più essere distratto dalle ragazze. Ho cercato di convincere i miei genitori a cambiare idea. Dopotutto ero appena diventato popolare, ma era inutile discutere. Il giorno dopo sono andato a scuola un po' turbato. Le ragazze hanno cercato di tirarmi su il morale, ma non è servito a nulla. Non sarei più uscito dopo scuola. E non sapevo come chiedere loro di vederci dal momento che ero al verde. Quindi sono tornato a casa. Ma poi ho sentito le loro voci sulle scale. Mi sono incuriosito e ho deciso di origliare, dopo essermi accovacciato dietro a una ringhiera. Monica, Stacy e Jess stavano litigando animatamente. Lascialo stare! Ha chiesto di uscire prima a me! Ma lui sa quello che mi piace. Infatti a me ha regalato un pupazzo di Hello Kitty, mentre a voi ha preso dei regali impersonali. Smettetela di litigare! Andiamo da quella signora e cerchiamo di scoprire la verità. Le ragazze erano d'accordo con Jess e l'hanno seguita. Certo, ero felice che le ragazze del liceo litigassero per me, ma avevano un'aria sospetta. Chi era quella signora e che cosa aveva a che fare con me? Per scoprirlo ho deciso di pedinarle. Sono entrata in una casa che non conoscevo. Una delle finestre era spalancata. Così ho guardato all'interno. Una donna seduta a un tavolo, a lume di candela, agitava le braccia sopra a una sfera luminosa. Monica, Stacy e Jess studiavano ogni sua mossa. Alla fine Monica non è riuscita a trattenersi. Forza, ce lo dica! Chi sceglierà? La signora ha detto, dopo un colpo di tosse, l'ultima volta la sfera ha sbagliato. Il ragazzo non diventerà ricco. Continuerà a indossare degli stracci e a invidiare gli altri. Le ragazze erano molto infastidite. Dopo essere uscite ho bussato alla porta della donna per arrivare in fondo alla questione. Ma lei non mi ha aperto e ha detto con tono severo, non accetto altri clienti oggi, vattene! La cosa mi ha infastidito molto. La mattina dopo ho deciso di chiedere alle ragazze che cosa stesse succedendo. Ma dopo aver sentito la profezia, le ragazze avevano completamente cambiato atteggiamento nei miei confronti. Quando mi sono avvicinato, Monica ha ricciato il naso per il disgusto. Stacy mi ha cacciato e Jess ha fatto finta che non esistessi. Mary aveva ragione, non piaceva a nessuna delle ragazze. Volevano soltanto i miei soldi. Dovevo chiederle scusa per non averle creduto, quindi ho deciso di sorprenderla. Durante l'intervallo sono andato in un negozio, con l'intenzione di comprarle dei dolcetti con gli ultimi soldi rimasti e di metterle lì nell'armadietto. Chi si sarebbe aspettato di trovare qualcosa di interessante nel suo armadietto. Sullo scaffale più alto c'erano delle candele e una sfera di vetro, come quella usata dalla signora. Prima di riprendermi dalla sorpresa, Mary è apparsa accanto a me. Le ho chiesto delle spiegazioni, ma ha reagito in modo drammatico. Mi ha strappato la sfera dalle mani e ha urlato. Sei uno stupido se ancora non hai capito nulla. Non sei solo un amico per me, ok? Ero molto dispiaciuta per te dopo la festa e così ho deciso di risollevare la tua autostima. Ho detto a quelle oche che conoscevo in indovina e che lei avrebbe dato loro dei consigli per trovare l'amore. Se la sono bevuta e ho chiesto a mia nonna di stare al gioco. Le ho comprato una sfera di cristallo o delle candele, l'ho fatta vestire da veggente e ho chiamato le tue amiche. La nonna ha mentito e gli ha detto che saresti diventato ricco molto presto, così hanno iniziato a litigare tra di loro. Ma le cose sono andate troppo oltre. Dopo che tuo papà ha vinto quei soldi, tu hai speso gran parte della vincita in appuntamenti e regali. Così mi è dispiaciuto. Per questo motivo ho detto alle ragazze che stavi uscendo con tutte e tre. Così sono venute a chiedere un'altra profezia. Mary non mi ha lasciato dire nulla. Si è messa a piangere e se ne è andata. A essere onesti ero molto arrabbiato con lei. A causa sua avevo pensato di essere un grande, invece ero il solito sfigato di sempre. Se solo si fosse fatta gli affari suoi, non avrei speso i soldi dei miei genitori e non mi avrebbero mandato a una scuola per ragazzi. Ma la sera stessa, dopo essermi calmato, mi sono reso conto che aveva agito per il mio bene. Mary era l'unica ragazza a cui piacevo e non le interessavano i soldi, ma il mio carattere. Ho raccontato tutta la storia a mia mamma e le ho chiesto un po' di soldi per far felice la mia amica. Qualche ora dopo mi sono presentato davanti alla porta di casa sua. Quando mi ha visto, voleva sbattermi la porta in faccia, ma poi le ho mostrato una sfera di cristallo da dietro la schiena. Ho alzato gli occhi al cielo e ho agitato le braccia sopra la sfera. Mary Brown, oggi uscirai con uno stupido, ma ha promesso che farà del suo meglio. Mary non è riuscita a non ridere, ci siamo divertiti moltissimo quella sera e non abbiamo speso molto. Abbiamo passeggiato per il parco, mangiato un gelato e ci siamo raccontati delle storie divertenti. Finito il weekend, i miei genitori hanno mantenuto la promessa e mi hanno trasferito in una scuola per ragazzi. Questo però non mi ha impedito di continuare a uscire con Mary. Non ho più rivisto Monica, Jess e Stacy. Tuttavia Mary mi ha parlato della loro nuova vittima, vale a dire un altro ragazzo ricco. Beh, mi è dispiaciuto per lui. Mandate questo video a un vostro amico senza soldi, magari gli aprirà la mente e lo aiuterà a vedere le cose da una nuova prospettiva.